E' emersa la richiesta assolutamente giusta, condivisibile da parte del prefetto di fare presto. Noi come Comune siamo pronti e dovremo fare, appena avremo il dato del censimento, la valutazione dello stato di necessità degli occupanti abusivi, perché come sapete a fronte di uno stato di necessità, quindi presenza di minori o situazione patrimoniale particolarmente difficile o situazione di vulnerabilità magari sociale o fisica, a secondo delle situazioni, bisogna provvedere poi a una soluzione alternativa. Quindi noi siamo pronti, aspettiamo il censimento che è appena concluso, aspettiamo i dati della Guardia delle Finanze sulle condizioni patrimoniali e poi possiamo procedere.